Finalmente la luce in fondo al tunnel, dopo tre sconfitte consecutive, il Teramo Basket 1960 torna alla vittoria e lo fa in maniera splendida battendo nettamente e con pieno merito Nardò, con il punteggio di 85 a 68 al termine di un match tosso e spigoloso. I due nuovi coach, Massimo Gramenzi e Stefano Di Francesco, hanno inaugurato quindi il loro esordio casalingo nel migliore dei modi e la squadra, dopo i segnali positivi già intravisti nella trasferta di Sansevero, ha risposto con una prestazione caratterizzata da grande cattiveria agonistica e voglia di lottare su ogni possesso. Sono due punti fondamentali, in primis perché chiudono definitivamente il discorso salvezza senza passare per i play-out, poi perché tengono ancora in corso i biancorossi per quanto riguarda il discorso play-off. Matera, infatti, è uscita sconfitta dal campo di Recanati e attualmente i Lucani distano soltanto di due lunghezze in classifica. Certo, adesso non bisogna mettere eccessiva pressione, ma bisognerà affrontare le ultime due partite con la mente fredda e il cuore caldo. All'orizzonte si prospetta la trasferta di Ortona, squadra con un passo in Serie C e che si giocherà le ultime carte per non retrocedere direttamente. L'ambiente però in casa Teramo e Sereno, la vittoria con Nardò, infatti, ha dato la giusta iniezione di fiducia a tutto il gruppo e adesso si guarda in modo positivo a questo avvincente finale di stagione. Analizzando brevemente la partita contro Nardò, il prologo non è dei migliori per i padroni di casa, con i pugliesi a chiudere avanti il primo quarto e a tentare anche l'allungo all'inizio della seconda frazione. Nella ripresa viene fuori il capitano Andrea LaGioia che a suon di triple entra definitivamente in partita e trascina i propri compagni di squadra alla doppia cifra di vantaggio. LaGioia mette a segno due triple mortifere sul finale, una più bella dell'altra, mentre Saffieri chiude letteralmente la sala cinesca in difesa e ancora il capitano a dare il colpo di grazia con la bomba che spezza definitivamente le gambe a Nardò, 78-64 al 37esimo. Finisce quindi 85-68 con il palasca in piedi ad applaudire i ragazzi di coach Gramenzi e di Francesco. Il sogno playoff è ancora possibile, bisognerà solo crederci fino alla fine.